Fratelli nella vocazione, Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a Casa Santa Marta ha ricordato nella festa dei tre Arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, che gli uomini e gli angeli sono chiamati a cooperare al disegno di salvezza di Dio. Gli angeli, ha affermato, sono i grandi contemplativi, servono e il Signore li invia per accompagnarci sulla strada della vita. Michele è l'angelo che fa la guerra a Satana, ha ricordato il Papa, che ci aiuta a non lasciarci sedurre dal diavolo che poi ci accusa davanti a Dio. Gabriele è l'angelo della buona notizia, del Vangelo di Dio, della salvezza. Raffaele ci prende per mano e cammina con noi per guidarci sulla giusta via. Michele, Gabriele e Raffaele oggi preghiamo, semplicemente. Michele aiutaci nella lotta, ognuno sa quale lotte ha nella propria vita, oggi. Ognuno di noi sa qual è la lotta principale, quella che fa rischiare la salvezza. Aiutaci. Gabriele, portaci buone notizie, portaci la buona notizia della salvezza. Che Gesù è con noi, che Gesù ci ha salvato e darci speranza. Raffaele, prendici per mano e aiutaci nel cammino. Per non sbagliare la strada, per non rimanere fermi. Sempre camminare, ma aiutati da te.